Prendere tre cartoncini e incollarli in questo modo, poi utilizzare questo materiale. Iniziamo ad incollare. Mamma, è bellissimo! Adesso mettiamo questo. Molto carino. E adesso creiamo le sedie. Mettiamo il dito per reggere i bastoncini che ci serviranno per fare la sedia. Ancora, ancora, ancora. Molto carino. Appendiamo un quadro vicino al lettino. È simpaticissimo. Attacchiamo il quadro con la principessa. Diciamo quello di prima. Molto carino. Molto carino. Molto carino. È bellissimo! Fantastico! Ciao! 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 Ciao!